Ciao a tutti, perché sembri interessato ma poi scompare e non riesci a fartene una ragione? In questo video voglio spiegarti perché talvolta, diciamo, un uomo si allontana quando tu pensi che invece sia una persona interessata a te. E sembra anche dimostrarlo. E come gestire questa situazione? Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Inoltre puoi andare sulla home page del canale e abbonarti. Cliccando sul tasto abbonati troverai tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e registrazione seminaria del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Allora, veniamo, veniamo... Ah, e inoltre iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco. Trovi il link qua sotto. E se ti abboni, se ti iscrivi gratuitamente ovviamente a questo canale, Crescita Personale con Massimo Terramasco, e se arriverà a 100k di iscritti entro il 30 giugno farò un seminario gratuito per tutti gli iscritti. Quindi iscriviti e fai iscrivere i tuoi amici. Allora, perché sembra interessato ma poi scompare e non riesce a fartene una ragione. Allora, che cos'è l'innamoramento? L'innamoramento è la proiezione, quella di un nostro bisogno, di una nostra mancanza su un'altra persona. Questo purtroppo, questo meccanismo, che è un meccanismo proiettivo, noi diamo energia proiettiva, energia d'amore, la proiettiamo su un'altra persona. Cioè il nostro bisogno d'amore viene proiettato su un'altra persona. E questo va a trasformare completamente la realtà. Cioè, perdiamo completamente la connessione con il reale. Quando succede questo non abbiamo più possibilità, non possiamo farci una ragione di questo. Diventa tutto confuso. La nostra parte emotiva prende completamente il sopravvento della parte logica. E allora, iniziamo a vedere. Si innesca il meccanismo, potremmo dire, di Dante Alighieri. Non amorca nulla amato, ma perdona. L'amore non perdona di non essere ricambiato. Questo è falso. Cioè, non è vero che se tu ami devi essere per forza ricambiato. È un'illusione che si ottica, che si crea. Purtroppo, quest'illusione ottica che si crea, a cosa porta? Porta, diciamolo così, a vivere situazioni estremamente negative. Porta a vivere situazioni che sono davvero estremamente negative. Estremamente negative per quale motivo? Beh, semplicemente per il fatto che tu confondi la realtà. E quindi, non è vero, non esiste che una persona semainteressata puoi scompare. Perché avrà dato tutti i segnali che era, si trattava di un interesse farlocco. Anche i narcisisti ti danno segnali, come dire, che però, se tu riesci a decodificare, ti rendi conto che sono segnali farlocchi di interesse. Cioè, purtroppo, questo dipende dal tuo bisogno di amore. E quindi è lì che deve andare a agire. Cioè, il fatto che sembrava interessato e poi scompare, deve farti capire che tu hai un bisogno eccessivo d'amore che non riesci a gestire autonomamente. Quindi hai bisogno di un'altra persona. E quindi credi agli asini rosa, agli elefanti che volano. Purtroppo succede questo. E quando poi scompare l'altra persona, ma in realtà i segnali te li avrà dati prima, tu caschi dal pero. E non capisci questo. E allora è quasi innesco un meccanismo perverso, in cui tu non riesci a farti una ragione, no? E allora accetterai tutto. Dirai, no, ma io lo amerò per sempre. Nonostante tutto, io non posso vivere senza questa persona. Entrerai in questo stato estremamente confuso, diciamo, tra bisogno e realtà, in cui il tuo bisogno diventa la tua realtà. E quindi inizierai a rimuginare, poi a chiederti, ma perché l'ha fatto? Ma talvolta arriverai a darti delle colpe tu. Penserai di non essere la persona giusta. Penserai di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ecco, quindi, che qua viene fuori quello che bisogna fare, invece. Cioè, intanto, quando incontro una persona e inizio a instaurare un rapporto con una persona, mai e poi mai devi essere bisognoso. Se sei bisognoso, sei fregato. Quindi, prima cosa, in generale, come, diciamo, protocollo preventivo, è quello di diventare artefice delle tue emozioni. Devi trovare tu diverse fonti di appoggiornamento emotivo. Devi tu avere delle passioni che tu sei in grado di gestire. Non devi avere questo bisogno che spesso poi nasce da delle ferite vissute chissà quando, nell'infanzia, cioè la ferita di non piacere, la ferita di non essere in grado di vivere senza una persona. Questo bisogno profondo devi trovare uno o più modi per darti delle emozioni attraverso il tuo comportamento. Questa è la cosa di base. Devi ogni giorno somministrarti degli spuntini emotivi. In questo modo dai pace alla tua sfera emotiva e vedrai che inizierai a vedere la realtà in modo diverso. Perché è come quando uno ha la pancia piena, beh, non è che mangia tutte le schifezze che gli vengono proposte. Oppure, cioè, se tu ti puoi abbeverare dalla sorgente d'acqua pura, non vai a bere dalla pozzanghera d'acqua sporca. Certo è che se, invece, sei morto di sete, esci dal deserto pieno di sete, vedi la prima pozzanghera di acqua sporca e che vedi la bevi. Non è che dici, no, non è, diciamo, mi manca il ghiaccio e la fettina di limone e io altrimenti non bevo acqua. No, non è così. Quindi questo è quello che devi tenere presente, no? Cioè, devi trovare, e questo è fondamentale, ecologico per ogni persona, trovare un sistema di approvvigionarsi a emozioni. Poi, nei confronti di quella persona che è sparita, tu devi fare degli atti di coraggio se vuoi ribaltare la frittata. Intanto prima devi, ripeto, trovarti un modo o più modi per darti delle emozioni. Altrimenti vivrai sempre una realtà distorta, perché se sei sempre interessato e poi sparisce, significa che non eri interessato. Se uno prima ti ama e dopo un po' non ti ama più, significa che non ti ha mai amato. Questo devi prenderne atto, quindi non vederlo come una sconfitta, vederlo solo come un'informazione sul tuo stato, sul tuo stato, diciamo, emotivo. Per cui, cambia, devi trovare la forza di fare degli atti di coraggio, perché gli atti di coraggio sono fondamentali, per cambiare stile di vita ed acquisire uno stile di vita diverso. Cioè, uno stile di vita che ti porti a saper gestire autonomamente la tua emotività. Questo è quello che devi fare. E poi fai degli atti di coraggio e rispetto anche a questa persona. Se ne andate poi scompare, col cavolo che ti vengo a cercare. Perché io sono la persona più importante del mondo e mi amo e mi accetto così come sono. Se tu non mi vuoi, poverino, non sei quello che ti perdi. Questo è il meccanismo, il mantra che deve cominciare a alleggiare, diciamo così, dentro di te. Questo mantra te lo devi ripetere più e più volte, in modo tale che diventi carne della tua carne, sangue del tuo sangue, pensiero dei tuoi pensieri. Deve diventare qualcosa che veramente dentro di te diventa una certezza. Questo fatto, quindi, vedi che puoi ribaltare il male in bene, puoi ribaltare la frittata. Quello che all'inizio sembrava una cosa negativa, il fatto che questa persona se n'è andata, se tu lo vivi in questo modo e impari a fortificarti, impari a darti delle emozioni, impari a diventare artefice tu e soltanto tu della tua felicità e della tua infelicità, avrai, diciamo, risolto un problema non da poco, un problema esistenziale non da poco, quello di diventare autosufficiente e autonomo emotivamente. Che non vuol dire che non dovrai interagire con gli altri, no, sarai però tu che interagirai con persone diverse per andare a somministrarti queste emozioni. Quindi questo è quello che devi imparare a fare. Se non impari questo, resterai sempre una sorta di limbo per cui le persone prima ti sembrano interessate perché tu, come dire, avrai questa visione distorta della realtà e poi spariranno e allora dovrai prendere atto dalla realtà e spesso prendere atto dalla realtà dandoti delle colpe, prescrivendoti dei sintomi, pensando di essere sfortunato, incapace o impedito nel superare gli obiettivi. E questo non deve avvenire. Quindi, lascia scritto nei commenti qua sotto cosa ne pensi, iscriviti al canale e abbonati scegliendo tra diversi tipi di abbonamento, base, top e master consulting e poi vai a visitare il mio canale Crescita Personale con Massimo Terramasco. Se ti piace, iscriviti e fai iscrivervi ai tuoi amici che se arriviamo a 100k di iscritti entro il 30 giugno ci sarà questo seminario gratuito. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!